Le esperienze che amo condividere raccontano l'impegno e la dedizione quotidiana di colleghi che costruiscono il futuro. Credo che la cosa più bella di essere un brand builder è la possibilità di presentare agli altri quello che facciamo tutti noi. Le storie che mi piace share sono le cose che sono più utili, per mostrarvi che ci siamo capiti. Questo è il modo certo e il spirito per noi e la nostra firma per crescere.